La presenza di molti vulcani attivi e quiescenti, le attività sismiche, le numerose frane e alluvioni fanno dell'Italia il paese europeo con maggiore rischio geologico. Tematiche di crescente interesse come la cattura, lo stoccaggio e la neutralizzazione di CO2 o l'utilizzo di energia geotermica possono essere affrontate solo con un'approfondita conoscenza dei processi e una corretta valutazione della sostenibilità delle azioni. Inoltre, in questa delicata fase di evoluzione, il cambiamento climatico in atto e la necessità di nuove modalità di approvvigionamento e uso di energia rendono il ruolo del geologo cruciale. Il corso di laurea magistrale in geologia ed esplorazione fornisce conoscenze avanzate in diversi settori della geologia per un'efficace esplorazione della terra a fini applicativi e scientifici. Il curriculum unico è fondato su quattro insegnamenti obbligatori che coprono i principali settori d'indagine delle scienze della terra. È poi prevista una vasta scelta di esami per approfondire le tematiche secondo le proprie attitudini e sensibilità. L'attività didattica include numerose esperienze di laboratorio, attività di terreno e un tirocinio di formazione e orientamento. Il laureato troverà impiego presso enti pubblici o privati, operanti nei campi della ricerca e produzione di geoenergia e altre georisorse. Potrà inoltre lavorare presso pubbliche amministrazioni o enti di ricerca e di monitoraggio del territorio. Esplorazione, conoscenza, competenza. Il domani del pianeta. Il domani del pianeta. Il domani del pianeta. Il domani del pianeta. è una